Giocare con l'Inghilterra Siamo lavorando su questo per cercare di mantenere tutti i giochi Abbiamo avuto un miglioramento di tutti i tournamenti Siamo cercando il nostro meglio nelle prossime due game perché non iniziamo molto bene Siamo cercando di venire meglio nelle prossime due game e, ovviamente, proviamo a vincere qualche game